Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle Skyblock di Hypixel Allora, ci tengo a specificare che i video precedenti ancora non sono usciti nel mio canale Quindi se mi avete dato dei consigli precisissimi non li ho ancora letti Ma state tranquilli, li leggerò tutti Sono andato avanti e voglio farvi vedere che cosa ho fatto, che cosa ho imparato Perché secondo me ho fatto un bel po' di progressi dall'ultimo video Allora, prima di tutto, questi li avevate già visti Li sto potenziando al massimo Per esempio lui adesso ha veramente tantissimi slot, 384 slot di carbone che possono entrare all'interno del suo inventario E ho bisogno di 24 carboni incantati per aumentarlo Però ho pensato che senso ha aumentare ulteriormente il suo spazio Quando ne posso fare un altro che mi costa di meno Quindi ne ho fatto semplicemente un altro Tra non molto gli aumenterò ancora l'inventario e poi ne farò degli altri e così via Nel frattempo tutto il carbone incantato che ho creato grazie a lui è qua 16 di carbone incantato Questo qua vale tantissimo Infatti adesso vi faccio vedere Andiamo immediatamente nel bazar Quindi isola delle skyblock Fantastico E lo andiamo a vendere 16 di carbone incantato al bazar Vediamo un pochettino quanto me lo valuta 11.000 coin Speravo di più sinceramente Però non è male ragazzi Vendiamolo E ora vi faccio vedere la vera chicca Voi starete pensando Beh Kendall 11.000 coin Sei ricco State a guardare quanti soldi ho Ho un milione di monete Cioè Allora Vi spiego Praticamente me le ha regalate una persona Non so perché A un certo punto si è avvicinato E mi ha regalato un milione di euro E non solo Mi ha regalato anche tantissima altra roba Che adesso vi faccio vedere Allora Le ho messi tutti quanti all'interno della seconda ender chest Guardate Mi ha regalato questa spada qua La spada leggendaria della terra Ragazzi C'è talmente tanti incantesimi Che non so nemmeno Da dove iniziare Ed è una spada epica Quindi Cosa ho fatto io Sono andato Dai tizi che fanno le aste Per vedere a quanto Le vendessero queste spade Quindi mettiamo armi Mettiamo come rarità Epica E questa qua Qual è questa forse Boh comunque sono Tipo alcune tra queste spade qui Forse è tipo questa E guardate a quanto la vendono Cento milioni Cento milioni ragazzi Ora Non so se quella che c'ho io È uguale a quella lì O se vale di più O se vale di meno Non ne ho idea Però comunque Anche se già dovesse valere Tipo 5 milioni Sarebbe tantissimo per me Che ho appena iniziato E poi mi ha dato tutto quanto Un set d'armatura Io queste robe Uno Non le posso mettere Sono abbastanza sicuro Perché sono di livello troppo basso Quindi non avrebbe senso Ma Una cosa che posso usare È Il leone Adesso Ho un pet Eh sì Infatti io già mi ero accorto Che tutti quanti qua Hanno un pet Visto Quell'animaletto che li segue E a quanto pare Questo leone Mi darebbe Più 0,05 di danno E più 0,05 di forza Da aggiungere alle mie spade Quindi è praticamente Combattente Allora Penso che per usarlo Devo semplicemente piazzarlo Ok Ho aggiunto il leone Al mio menu Pet No Non ci credo Che carino ragazzi C'ho un pet Adesso è bellissimo Ok Lui quindi adesso Mi segue in giro Guardate E praticamente è diventato Un parasita No non è un parasita È un pet È un cucciolo E adesso lo possiamo Anche fare livellare Non so bene come Però Avevo fatto una missione Dove andando da lei Mi diceva che lei Si occupa dei pet Ah quindi se glielo do Lei se ne occupa Però poi io non lo posso Più avere No 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 Facciamo così Aspetta Cerchiamo di capire Se c'è un modo Per tipo comprare Del cibo Magari per fargli Aumentare il livello Questo qua Aumenta Del 10% L'esperienza Di tutte quante Le abilità Del mio pet Beh non è male Costa 50.000 Oh mamma Questo invece Aumenta 20% L'expe solo Del mining E costa 60.000 Farm Fishing Combattimento Ok Questo qua Costa 750.000 Si chiama Artiglio di ferro Ti aumenta Del 40% I danni critici Che fai E' potentissimo Si ma costa troppo Costa veramente troppo Allora Prendiamo questo Dai Ah si certo Prima devo andare a ritirare I soldi dalla banca Quindi quello mi aumenta Del 10% Tutte quante Le esperienze Delle varie skill Allora Ritiriamo 50.000 Abbiamo detto Mamma mia Sono tantissimi soldi Però Siccome quello là Mi ha regalato un milione Ragazzi Da sto punto Usiamoli No Cerchiamo di investirli In qualcosa di utile Quindi Ok compriamo questo E come faccio a darglielo Devo cliccare su di lui Ok Lo sta tenendo in mano Molto bene Quindi adesso lui riceverà Il 10% in più Di esperienza Per ogni singola abilità Per tutte le skill Tu invece hai qualcosa Oh Lei invece C'ha soltanto I pet ape C'è quello normale Quello Quello non comune Quello raro E quello leggendario 650.000 coin Costa Porca miseria Ehi Leoncino Dovrai diventare leggendario Oppure tu Ok Non lo so se può diventare leggendario Però dobbiamo sicuramente farlo aumentare di livello Nel frattempo Vi faccio vedere Un altro po' di cose Che ho fatto Ho aumentato la mia skill Di enchanting Infatti come vedete adesso Guardate È già a livello 5 Perché ho incantato Questa spada Aggiungendogli Scavenger 3 Che praticamente Mi da 0,9 di coin Per ogni uccisione Che faccio Quindi 0,9 in più Gli ho messo Sharpness 4 E telecinesi Invece in questo piccone Ho messo Efficienza 4 Smelting touch E telecinesi In questo modo Sono riuscito ad aumentare Le mie capacità Di incantatore Degli oggetti E quindi adesso Posso indossare anche Degli oggetti Con degli effetti speciali E in più Sono riuscito A completare Tutta quanta La missione Delle caverne Praticamente Quando entri Nelle caverne profonde Ovvero queste qua Ti dà la missione Di sbloccare Ogni singolo livello Quindi inizialmente Inizi dai Dall'oro Che è questo Livello oro Poi scendi giù E qua ci trovi Soltanto i creeper Poi scendi giù E trovi per esempio I lapislazzuli Eccoli Scendi ancora E c'è la redstone E così via Io sono riuscito Ad arrivare Fino in fondo Fino alle profondità Della terra Completando tutta quanta La missione Quindi adesso siamo Nel livello lapis Se vado da lui Che è praticamente Il tizio dell'ascensore Posso scendere Dove mi pare piace Visto Questo è l'ultimo livello E qua ce n'è un'altra ancora Che però non ho Ancora esplorato Ovvero le caverne Dei nani Ma per entrarci Ho bisogno Del cuore del cuore Devo comprare un oggetto Non so se devo comprarlo Nella mia isola E posso accedere E invece con i bits Poi con quegli altri oggetti Pian piano ragazzi Vedrete che creerò Ho una farm gigante Tra l'altro la farm Di candela zucchero Non è neanche la migliore Che io posso fare Però sicuramente Una delle più facili Al momento Adesso devo semplicemente Entrare qua dentro Fare così Quando sarà cresciuto Tutto quanto E prendo i miei guadagni Nooo Così posso vendere Le robe direttamente Dalla mia isola Senza dover andare Nello spawn Che figata Guardate Candela zucchero Vendi Vendute Vabbè non mi ha dato niente Perché ne avevo soltanto 5 Cioè Tutto qua E c'ho 250 bits Ok Ma il mio leoncino Come faccio a farlo salire Di livello Ci deve essere scritto Da qualche parte Ah stava già salendo di livello Guardate Progresso per arrivare Al livello 2 Ok Ci sono 3 tacchette Facciamo così Andiamo a combattere Adesso stiamo entrando Nella zona del cimitero Io credo che Combattendo contro i mostri Il mio leoncino Dovrebbe aumentare di livello Giusto Dovrebbe salire Se non altro un pochettino Loro però sono soltanto Dei mostri di livello 1 Quindi sono veramente Troppo semplici da uccidere Anche perché C'ho una buona spada C'ho un'armatura Discreta Quindi adesso Sapete cosa facciamo Andiamo direttamente Nel covo Dei ragni Vi assicuro ragazzi Che il covo dei ragni Non è uno scherzo All'inizio Io credevo che Sti ragnetti Fossero una passeggiata Da uccidere Ma invece Sono soltanto Livello 4 Ma fanno un male assurdo Quando ti colpiscono Cioè guarda Mi hanno tolto già Due cuori e mezzo Uno soltanto Però credo che qua Si expi un bel po' Lui è di livello 10 Oh devo fare attenzione No siete in troppi Mamma mia quanto No ragazzi Cioè Mi hanno ucciso già Mi hanno ucciso Allora io devo riuscire A aumentare la mia skill Di combattimento A almeno 5 Al momento è al 4 Quindi devo expare Veramente tanto Anche perché Come potete ben vedere In alto È praticamente una Delle mie missioni Cosa cavolo è Quel castello Sembra tipo La fortezza dei blaze Mi sa che è la fortezza dei blaze Probabilmente è la fortezza dei blaze Allora scendiamo Sperando di non morire Adesso con i ragnetti No ragazzi È troppo pericoloso Credo che questo sia Un dungeon comunque Allora scendi Piano 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 Io non sono ancora pronto Non sono equipaggiato bene Abbastanza Per affrontare Certe sfide Ok E dove sono tutti i ragni Oh ho trovato Un'altra fairy soul Tra l'altro ne devo trovare Tipo 350 Di quelle Oh un'altra Devo trovarne tipo 350 Una roba del genere Ne ho soltanto 10 No non è vero Non è vero ragazzi Ci sono anche i miei cerrimi nemici I silverfish Muori No Stammi alla larga Non mi attaccare Non mi attaccare Ok Bene ragazzi Il mio livello di combattimento Sta aumentando Sto diventando sempre più forte No 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 Oh è vero Perché non mi prendo un arco Oh mamma Ti aiuto io tranquillo Piccolino Anche io odio i silverfish Stammi alla larga Stammi alla larga Non ci credo Ragazzi sono fortissimi comunque Com'è possibile che io stia morendo Da dei ragni Con un'armatura del genere Ah Oh mamma Che incubo Dai che manca poco al livello 5 Dai che manca poco al livello 5 Dai che manca poco al livello 5 Muori Ho bisogno di comprarmi un arco Secondo me con l'arco Spacco qua No 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 Chi è che mi attacca Come sono morto Per fortuna ragazzi Visto che ho mangiato Oh visto che ho mangiato Il biscotto di prima Non perdo assolutamente nulla Quando muoio Sì 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 Devo continuare a spare qua ragazzi No siete troppi Siete troppi Statemi alla larga Statemi alla larga Ho detto Oh mio dio Sì vabbè ma se saltano così Ok Manca veramente uno sputo E arrivo al 5 Sì Ma lui mi sta curando Aia Guardate mi cura Cos'è un mago Forza ragazzi Manca pochissimo al livello 5 E finisco la missione Sì Ce l'ho fatta Ok la mia prossima missione È quella di entrare Nella fortezza dei blaze Ma siete matti Io me ne vado da qua Io me ne vado Eppure alla svelta Ho bisogno di armi Migliori di queste Quindi lui È l'armaiolo E mi vende Mi vende degli archi Ok Arco wither Arco artisanale Più 40 di danno Più 0,05 di forza Beh questo non sembra male Arco raro tra l'altro Beh costa soltanto 600 Io lo comprerei Le frecce 12 frecce Costano 40 Mazza Un po' care Però vabbè C'ho quasi un milione Quindi tanto vale Vediamo Vediamo Prendiamo 3000 Sì 3000 euro circa Ok Ma il mio leoncino è salito un po' Fammi vedere Pochissimo Ma è difficilissimo farlo aumentare di livello Ma come cavolo si fa? Consigliatemelo qua sotto nei commenti Ditemi come posso fare Aumentare di livello il mio pet Allora Quindi compriamo l'arco Compriamo un bel po' di frecce Che ci potrebbero servire Bene Oh Ah le spara Le spara super velocissime Ok Questa invece è la spada contro i ragni Più 100% di danno contro Silverfish ragni E ragni delle caverne Ecco quale dovevo prendere allora Io per andare all'interno di quel dungeon Ok Spara dell'end Spara dei ragni Spara di diamante Più 35 di danno Questa quanto fa? Più 30 Eh però la mia è tutta incantata Per adesso mi tengo la mia Beh ragazzi Io spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando Continuate a darmi tantissimi consigli Su come andare avanti nelle skyblock Io mi sto divertendo tantissimo Anche se sono ancora molto noob Dal vostro Kendall è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao